Gabriele Zappa, intanto benvenuto a Pescara, anche se ci troviamo ancora a Palena in ritiro. Benvenuto soprattutto nel calcio dei grandi. Sì, ti ringrazio per questo benvenuto. Sono molto contento di essere qua e di questa opportunità per mettermi a confronto finalmente nel calcio dei grandi. Hai notato già qualche differenza col settore giovanile? Sì, sicuramente c'è l'intensità che è un po' più alta, poi è bello mettersi a confronto con persone più adulte che comunque hanno più esperienze e possono darti dei consigli per migliorare. Quali sono le tue caratteristiche peculiari? Spingi tantissimo, se nonostante. Sì, sicuramente mi piace molto attaccare, però comunque nel ruolo del terzino è importante anche difendere. Dovrai migliorare in una fase con un po' stesso. Il tuo modello, Maicon, che ha fatto Faville nell'Inter proprio nell'anno di Murigno, nel 2010, il triplete. Sì, sì. È un piccolo. Eh sì, però mi è sempre piaciuto come giocatore, però ci sono tanti altri terzini, anche Zampano ha fatto molto bene qua a Pescara e mi piaceva come giocatore. Zampano lì dietro. Scherziamo con Francesco, sono un grande giocatore, però doveva migliorare queste erano un po' i suoi limiti. Come me. Ti conosci bene Bettella, con cui hai condiviso l'esperienza all'Inter? Sì, può essere sicuramente un punto di partenza, perché comunque ritrovare un giocatore con cui ho già giocato può essere d'aiuto per me. Ritrovo sicuramente, oltre che un gran giocatore, un grande amico per me. Contava molto su di te Spalletti, insomma, credeva tantissimo nelle tue qualità? Penso di sì, purtroppo però non sono riuscito mai a esordire, però sì, comunque mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato molto. Che squadra sta nascendo? Parliamo dell'attualità, a tuo avviso. Una squadra molto forte che può competere per poter salire in Serie A.